Ciao ragazzi, è uscito il nostro nuovo album di figurine! Ci sono le avventure più belle di T-Pock Place, i nostri amici, i nostri animali e tantissime novità! Nello starter pack trovi anche il gioco da tavolo con le pedine e se trovi lo sticker dorato vinci il tour Big Vanilla! Sbabam! Una raccolta differente!